Ciao, buongiorno a tutti. Prima di tutto vorrei dire grazie alla TTI per aver scelto me per questa iniziativa. È davvero un onore essere qua con voi, per tutto ciò che fate davvero per la gente. Quindi non solo io, ma tutti noi qui dobbiamo dire grazie per il vostro lavoro. Riguardo quello che ha detto il Signore, la forza non la trovo solamente te, però anche con le persone che ti stanno attorno. Io, come si è detto prima, ho avuto qualche infortunio e è difficile magari lottare da solo. Ho avuto tanta forza nella mia famiglia che sono sempre lì accanto a me e quindi questo magari è quello che rappresenta la TTI per la gente che serve proprio quell'appoggio. E quindi è proprio questo, le cose magari da solo è difficile da superare e a volte, magari quasi tutte le volte serve proprio l'appoggio delle persone care che ti stanno attorno.